Infiltrazioni mafiose, dibattito in consiglio al termine dei lavori della commissione che si è occupata principalmente della vicenda Cheu, maggioranza e opposizione si sono divise presentando due diverse relazioni. Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Monitor Consiglio. L'ultima seduta del Consiglio regionale della Toscana è stata dedicata al dibattito sui lavori della commissione che studiava il pericolo delle infiltrazioni mafiose nella nostra regione, lavori che poi si sono incentrati prevalentemente sulla cosiddetta vicenda Cheu. Maggioranza e opposizioni si sono presentate al termine divise, la maggioranza ha presentato una propria relazione finale sui lavori così come ha fatto l'opposizione. La maggioranza sulla vicenda Cheu ha difeso l'operato della giunta regionale, l'opposizione ha invece espresso forti perplessità. Al termine il Consiglio ha approvato la relazione finale della maggioranza, ovviamente grazie al voto dei partiti di governo, però il Consiglio ha anche approvato tre proposte provenienti dalle opposizioni. Sentiamo le interviste che abbiamo realizzato ad iniziare da quella alla presidente della commissione d'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose e sulla criminalità organizzata in Toscana, la presidente Elena Meini della Lega che illustra ovviamente il punto di vista delle opposizioni. Allora la nostra relazione è similare a quella di maggioranza per quanto riguarda la criminalità organizzata alle infiltrazioni mafiose in Toscana, mentre si contraddistingue per quanto riguarda l'inchiesta Cheu, che è la motivazione principale che poi ci ha portato a richiedere questa commissione. Ancora diverse domande senza risposta, però ho voluto guardare avanti e quindi ho voluto proporre una serie di attività, una serie di interventi dal punto di vista amministrativo per cercare di evitare che tutto ciò si possa ripetere. All'interno dei nostri ordini del giorno chiediamo il potenziamento di ARPAT, chiediamo una commissione che è già la commissione esistente di garanzia e controllo che possa occuparsi anche del tema della legalità, chiediamo il potenziamento del fondo anti-usura, chiediamo poi che quando si presentano emendamenti in consiglio regionale, soprattutto su tematiche delicate come quella dei rifiuti, ci siano i tecnici della regione a garantire la procedura della presentazione dell'emendamento e ciò che sta scritto al suo interno e poi chiediamo che nel momento in cui ci siano delle impugnative di fronte del governo su una serie di leggi votate dal consiglio regionale, che sia lo stesso consiglio regionale a decidere se impugnare oppure no tale legge. Perché c'è stato detto che l'impugnativa è un atto dovuto, in verità lo abbiamo visto e la maggioranza ce l'ha dimostrato diverse volte, che ciò non è così e quando si può una legge si corregge. Ci sono due punti che distinguono soprattutto le due relazioni, una è relativa alla questione ARPAT-Caselli e l'altra invece è sull'emendamento, quello che più vi ha diviso, perché? Sì, allora la questione ARPAT-Caselli perché ARPAT ci dice, ci ha fatto capire nella commissione all'indirizzo che noi abbiamo tenuto fino a febbraio, che l'unico ente, diciamo l'unico soggetto, scusate, coinvolto dal punto di vista dell'inquinamento fosse la ditta Le Rose. La dottoressa Caselli ha stravolto l'attività che avevamo fatto fino a quel momento perché nel suo decreto dà una serie di responsabilità a ulteriori soggetti che non erano contemplati nel nostro lavoro. Quindi si dice che anche il Consorzio Acquarno e ulteriori soggetti sono responsabili dell'inquinamento e questo è stato uno dei motivi che poi ci ha portato a richiedere una proroga perché volevamo andare più a fondo e capire. Per quanto riguarda l'emendamento, sì, le posizioni sono diverse, sono diverse dal giorno in cui è scoppiata l'inchiesta perché noi continuiamo a sostenere che in quell'emendamento e lo ha detto anche un avvocato che è della Regione Toscana, è stato nominato dalla Regione Toscana, l'avvocato Ciarri, fosse e lo è tuttora un chiaro tentativo lobbistico per avvantaggiare qualcuno rispetto a qualcun altro. E adesso sentiamo l'intervista alla Vicepresidente della Commissione, Lucia De Robertis, del Partito Democratico che esprime ovviamente il punto di vista della maggioranza. No, non c'è nessun riscontro che quell'emendamento abbia avuto una conseguenza rispetto all'indagine del Cheo. Questo credo che era l'intento che voleva dimostrare la minoranza, che c'era una correlazione tra l'emendamento presentato e l'indagine del Cheo. Io ricordo solamente due date, l'indagine è partita da Arpat nel 2017, l'emendamento è stato approvato nel 2020, mai applicato perché non è stato necessario applicarlo. In quel momento non c'erano i tempi tecnici per tornare in aula per modificare la legge perché eravamo a fine legislatura e questo è il motivo per cui la Giunta si è opposta rispetto al ricorso che veniva fatto. Perché abbiamo rimosso l'emendamento? Abbiamo rimosso l'emendamento perché comunque su questa legge che è davvero innovativa, unica in Italia, che gestisce il quadro normativo che consente la gestione mista degli impianti, pendeva un potenziale ricorso da parte del Consiglio di Stato. Quindi abbiamo detto, siccome non è stato applicato, siccome non serve, siccome comunque non serve lì dentro, lo togliamo così evitiamo che ci venga discusso tutto l'impianto normativo. L'altro punto importante, lo ricordo neanche voi, nella vostra relazione, vi chiedete se il sistema di tracciabilità dei rifiuti in questo modo, come è concepito, sia efficace? Sì, noi vorremmo proprio verificare se il processo che ha messo in piedi, il sistema che viene dal Ministero, non è regionale, non se l'ha inventato la Regione Toscana, consenta agli organismi di controllo di tracciare il rifiuto, perché è evidente, se tu ne sai l'origine e sai dove va a finire, nel mezzo devi rispettare le regole, perché comunque prima o poi eventualmente viene fuori. Comunque il fatto che ARPAT si è accorto che non andavano bene certi risultati, certi esami di alcuni terreni che abbia fatto partire l'indagine, significa che l'impianto normativo, autorizzativo della Regione funziona. Ultima cosa, su un tema così delicato, mafia e cheo, sulle mafie c'è un accordo sostanziale nei contenuti sul cheo o no, che segnale è questo? Il segnale è che la Regione deve impegnarsi per mettere in atto tutto quello che serve per dare garanzia agli imprenditori di avere un sistema legislativo, normativo, autorizzativo che li possa garantire da eventuali potenzialità di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. Non siamo d'accordo sul cheo, non perché non è successo, è successo ma non spetta al Consiglio regionale andare a inserirsi in un'indagine di una magistratura. Noi dobbiamo solo verificare che le regole che abbiamo dettato consentano di essere tanto difficile penetrare in Toscana. Il cheo è una cosa che certo, lo comprendiamo, che la minoranza ha dovuto provare a rimettere all'ordine del giorno l'idea che emendamento cheo, colletti bianchi, politici, dirigenti e funzionari di questa Regione fossero la stessa cosa. Non è così. Il cheo è partito l'indagine del 2017 e l'emendamento del 2020 mai applicato. Questa è la nostra risposta. Sentiamo adesso le dichiarazioni delle altre forze politiche su questa vicenda. Beh, due relazioni diverse dovute al fatto che ascoltando la relazione della Presidente Meini, che è persona estremamente pacata e valutativa nel dare giudizi, parlare in aula di domande alle quali ancora non è stata data una risposta fa capire che sul legame tra la nostra terra e la criminalità organizzata c'è ancora tanto, tanto, tanto da indagare e da scoprire. Credo inoltre che vi siano porzioni intere di territorio. Penso a quella dell'Empolese con la strada regionale 429, penso a quella stessa del comparto del quadro di Santa Croce che ancora attendono delle risposte. Perché sulla famosa strada 429 i carotaggi sono partiti da pochissimo. Non ci sono ancora risposte. E qui stiamo parlando dei cittadini che ancora non sanno se vivono, mangiano, camminano, fanno crescere i propri figli su un terreno sopra dei veleni o su un terreno sano. Io credo che la credibilità della politica passi nel dare una risposta certa, che può essere anche una risposta brutta, ma certa, ai cittadini. E il fatto che la Presidente della Commissione CHEU, la Commissione d'indagine sulle infiltrazioni mafiose, più che CHEU, oggi in aula dica che vi sono tantissime domande a cui ancora non c'è risposta, me lascia molto, molto, molto basito da questo punto di vista. È da ascoltare invece la maggioranza che con nonchalance plaude a una relazione che dimostrerebbe che la Toscana è la terra dei sogni in cui la criminalità organizzata non attecchisce. Secondo me è una fotografia di una terra che purtroppo non corrisponde più alla realtà. È stato impossibile arrivare alla definizione di una relazione comune perché a quello che sembrava la maggioranza aveva visto, aveva letto dai fatti che si sono succeduti nel corso di quest'ultimo anno una visione tutta propria che era impossibile da condividere e soprattutto che non sarebbe stata e credo che non sia accettabile anche da parte di quei tutti i cittadini che non più tardi di pochi giorni fa si sono sentiti dire che le bonifiche alle aree inquinate dal Cheu saranno difficili e in alcuni casi impossibili. La relazione che abbiamo presentato come opposizione si è tenuta il più lontano possibile nel rispetto di tutte le persone coinvolte dalla questione giudiziaria ma non ha potuto fare a meno di un giudizio politico molto severo che è stato poi il medesimo che Rosi Bindi, certamente non una persona qualunque nel panorama politico, ha espresso nei confronti della politica che troppo spesso si autoassolve ed è velocissima nel cercare delle giustificazioni e delle coperture anche alle sue azioni che vengono pubblicamente considerate veramente nemiche di quello che è l'onore e la disciplina che ci dovrebbero caratterizzare. Questo credo che sia il messaggio principale che è emerso da questa commissione che purtroppo non potrà dare altre risposte per dei comportamenti da parte della Giunta che non sono stati collaborativi, spesso anticipava delle proposte che noi formulavamo all'interno delle commissioni secretate di cui comunque loro però evidentemente avevano accesso, c'è stata poca disponibilità ad accogliere istanze che già negli anni scorsi con la commissione di inchiesta su rifiuti e discariche il Movimento 5 Stelle aveva presentato e anche le associazioni in difesa della legalità avevano più volte presentato. Tutto questo denota un atteggiamento come, ripeto, autoassolutorio da parte di questa maggioranza che dalla nascita della regione governa, un atteggiamento di scarsa anche responsabilità nei confronti di quella commissione tra pubblico e privato che ci ha portato a una situazione che purtroppo ha danneggiato non soltanto le istituzioni ma i cittadini, le aziende, una situazione in cui non sembra di vedere una inversione di marcia proprio perché appunto non appare una mancata consapevolezza e un tentativo di correre ai ripari e di insabbiare la questione piuttosto che analizzarle e fare un bagno di umiltà nei confronti anche delle proprie responsabilità. Infatti noi siamo oggi a discutere questa relazione dopo molti mesi che la commissione si è conclusa. Anche questo non è un caso purtroppo. Una relazione che non ha trovato un consenso unanime, con due punti di vista differenti, però un lavoro buono fatto dai colleghi della commissione d'inchiesta che di fatto in questo periodo hanno lavorato in maniera molto attenta. C'è un tema delicato che emerge dalla discussione, quella delle infiltrazioni mafiose che ci sono ovviamente in Toscana come nel resto d'Italia e serve per contrastarle una politica che sia forte. Quindi bene che il Consiglio regionale abbia affrontato questa questione, che abbia approfondito, che abbia reso trasparente l'operato della nostra regione e nel rendere trasparente l'operato della nostra regione è ammesso nelle condizioni tutti i consiglieri di approfondire nei dettagli quello che è stata una questione molto importante, quella del CHEU e non soltanto quello che può essere in tutte le questioni che riguardano gli appalti pubblici, soprattutto se pensiamo che arriveranno tante risorse rispetto al PNRR, è opportuno e doveroso dotarsi di anticorpi che consentano alle pubbliche amministrazioni di lavorare con tranquillità e alle aziende sane di poter lavorare nel massimo della trasparenza nella nostra regione. Cesare Beccaria oltre 250 anni fa diceva che il più sicuro sistema per prevenire i delitti ed è anche il più difficile è la cultura della legalità. Ecco perché anche oggi nella discussione in questi due giorni in Consiglio regionale sulle infiltrazioni mafiose e sul CHEU abbiamo puntato come Forza Italia al sistema della legalità, alla prevenzione, ai percorsi all'interno delle scuole, all'educazione, ai ragazzi, alla legalità, perché le criminalità organizzate, le infiltrazioni mafiosi si combattono prima ancora che con la repressione o con il codice penale, con la cultura della legalità. È anche vera un'altra cosa, ci dispiace che il Partito Democratico non abbia condiviso con noi, con le opposizioni, il ringraziamento va alla Presidente Meini, al collega Capecchi che in commissione di inchiesta sulle infiltrazioni mafiosi e sul CHEU hanno fatto un lavoro straordinario. La domanda vera è perché il Partito Democratico ha scelto di non condividere la relazione con le opposizioni, perché il Partito Democratico ha scelto di presentare una propria relazione e non ha condiviso le soluzioni che sono all'interno della relazione presentata dalle opposizioni. Ci rimangono ancora tanti dubbi sull'inchiesta CHEU, sull'inchiesta delle infiltrazioni mafiosi. Certo è che un elemento del rimente di questa inchiesta sono le dichiarazioni del Presidente Rossi. Quando ci dice testuali parole allegate alla relazione che dell'emendamento CHEU si sapeva ormai da mesi, che lui era contrario, allora la domanda è perché il Partito Democratico ha presentato quell'emendamento. Ecco, noi continueremo a chiedere ancora verità, continueremo ancora a chiedere giustizia per quei territori che sono stati vittime del CHEU sulle strade, per quei territori che hanno visto gli sversamenti in maniera inopportuna, inappropriata e anche in maniera illegale del CHEU sui territori. Chiederemo ancora bonifiche, chiederemo giustizia e chiederemo verità. Continueremo con la nostra azione, lo abbiamo fatto come Forza Italia in questi due giorni, partendo sempre da quello che è stato il nostro faro e il presupposto. Per noi sono tutti innocenti fino al terzo grado di giudizio, non abbiamo certo fatto una battaglia in Consiglio regionale con le intercettazioni telefoniche, usando le intercettazioni telefoniche, ma siamo rimasti ai fatti. Partendo dai fatti abbiamo fatto la nostra analisi, partendo dai fatti abbiamo tirato le nostre conclusioni, partendo dai fatti chiederemo di continuare ancora, soprattutto su due filoni. Il primo è bonificare finalmente i siti che sono ancora oggi inquinati, il secondo è continuare nella ricerca della verità che per noi rimane un presupposto essenziale. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.